Si chiama Paul Wampan, è un 42enne e possiamo considerarlo come un miracolato in piena regola. Pensate infatti che stava lavorando nel 30 anno quotidiano in gara a San Sui, quando a un certo punto c'è stato un colpo al cuore, un infarto. Pensate che è stato salvato dal suo orologio, uno smartwatch, grazie al quale ha chiamato la Madame Marie. L'uomo infatti ha avvertito un forte colpo, o meglio un dolore fantissimo al petto, lo smartwatch ce l'ha avvisato, per tempo ha chiamato la moglie, che prontamente si è mobita, detto fatto, è riuscita la moglie stessa a salvarle la vita. Ovviamente il team medico si è occupato di proprio in questione, del buon Paul, riuscendo addirittura a prendere per tempo l'infarto. Se avessi aspettato più tempo, e forse se non avessi avuto uno smartwatch oggi, Paul sarebbe passato vitalmente parlando al mio capitale. Sarebbe morto, invece non vivo, e vincito. Beh, complimenti allo smartwatch, complimenti però anche alla donna in questione, la bohie, di Paul OneFound. 42 anni da di sui insieme in reales. Ok? Regno Unito, Inghietterra. Iscrivetevi al canale, commentateci, a tutti e una buona sera.